Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Io non conosco bene nel dettaglio la situazione, come sia avvenuta. Capisco il dolore dei familiari e va compreso e accompagnato. Finalmente c'è una commissione d'inchiesta. Io la farei lavorare bene perché la giustizia faccia il suo compimento. Certo, rimane il dramma, ma una giustizia che arriva fino alla fine lenisce e dà anche più sicurezza. Giuste parole con il Signore.